del benvenuto dallo sport city dove stanno per incontrare birreria numero 10 e scarsi fraccichi gara valevole per i quarti di finale della fase elite calicchia salta l'uomo di parte calicchia però cambia tutto per l'arrivo e il destro subito per il vantaggio a segno federico lazzeri 1 a 0 birreria numero 10 sposta la strada su calicchia milenese può calciare c'è la conclusione che colpisce il palo e poi molto sfortunato in questa occasione pilosu che viene colpito dalla sfera ed il terrete 1 a 1 calcio d'angolo peleggi occhia palla sul secondo palo milanesi 2 a 1 ribartano il risultato gli ospiti e vanno sopra lorenzo littera calicchia lazzeri ultimo uomo destro di lazzeri e girardi non si fa sorprendere e alza il pallone sopra la traversa parte baroni rincorsa destro di baroni pilosu ci mette la mano e para destro di calicchia deviato da baroni calcio d'angolo calicchia taglio di romaniello gran parata di gerardi che mette a lato cerca trova peleggi peleggi sono davanti a pilosu scarica per l'arrivo a rimorchio di galluzzi che appoggia con il piatto in rete 3 a 1 scarsi fracichi pronto calicchia calicchia conclusione gerardi non perfetto si fa beffare dalla conclusione era su terra del numero 7 che va a trovare la rete del 2 a 3 questa anche l'ultima azione della pelleggi milanese 1 2 ancora milanese che entra milanese solo davanti a pilosu alza il pallone e in sacca sul secondo palo la rete del 4 a 2 renzo littera tessata il pallone lazzeri sempre renzo littera a destra palla messa sul secondo palo e calicchia spinge il pallone in rete e riapre l'incontro 3 a 4 quando mancano 12 minuti al termine baroni chiude calicchia riparte riparte calicchia si appoggia su lazzeri lazzeri si accentra destro incrociato di lazzeri che passa sotto le gambe del gerardi ecco il 4 a 4 di nuovo parità termina qui il match 4 a 4 partita equilibrata un tempo per parte